Nulla è stato acquistato, i materiali utilizzati per le ricostruzioni scenografiche di costumi sono tutti usati e riciclati come attrezzi ed utensili impiegati. E' una non certo l'unica peculiarità del presepe vivente di Mirabello Sannitico che si è svolto in occasione dell'Epifania nel centro storico del paese a pochi chilometri da Campobasso. E' la prima edizione del presepe che coincide con la recente costituzione dell'associazione Dictum Factum nata per promuovere immagini e tradizioni di Mirabello Sannitico e che ha curato l'evento. Circa 80 figuranti con diverse scene allestite che hanno proposto una rivisitazione di momenti di vita quotidiana la lavandaia, la sarta, la scuola, il carcere, l'osteria, il forno, il faligname, il fabbro ma anche veggenti e prostitute e poi fatti direttamente collegati alla nascita di Gesù. Erode con il censimento, i remaggi e la grotta della natività. Ottimo riscontro di pubblico per la soddisfazione degli organizzatori dell'associazione Dictum Factum che hanno inteso ringraziare le forze dell'ordine, i volontari della Croce Verde Molisane e gli sponsor che con il loro contributo hanno reso possibile l'evento. Adesso appuntamento alla seconda edizione, sempre nel suggestivo scenario del Borgo Antico di Mirabello Sannitico.